Dopo la bocciatura di decine di progetti siciliani per 422 milioni di euro nel piano nazionale di ripresa e resilienza, l'assessore Scilla domani incontra il ministro Pato Anelli. L'assessore regionale all'agricoltura Antonio Toni Scilla, 53 anni di Mazzara del Vallo, recita il mea culpa o quasi dopo la clamorosa bocciatura di decine di progetti, soprattutto su opere irrigue, presentati dalla regione siciliana Roma e che sono stati bocciati e rispediti al mittente dal ministro all'agricoltura Pato Anelli, provocando alla Sicilia un danno economico enorme, ovvero 422 milioni di euro di lavori che si sono smarriti, forse, irrimediabilmente. L'assessore all'economia Gaetano Armao è stato sintetico e lapidario. Le sue parole. Alla regione non abbiamo tecnici di alto livello. Pre-pensionamenti e blocco delle assunzioni hanno provocato una desertificazione del personale competente. Tradotto in siciliano, semu immanu annugiu. L'assessore Scilla è più argomentante e spiega Errori tecnici e materiali nell'inserimento dei progetti in piattaforma. Vero. Problemi e affanni di una burocrazia insufficiente. Vero. Esclusione giusta dei fondi del PNRR. Falso. Ed è falso pure che i progetti siciliani siano non esecutivi e monchi. Non può essere un algoritmo improvvisato a decidere le sorti della nostra agricoltura. E invallo la rivoluzione in una rete irrigua che concordo nel definire indecorosa, degna in molte parti di una regione desertica dell'Africa, con tutto il rispetto per i paesi africani. L'assessore Tony Scilla domani, mercoledì 13 ottobre, volerà a Roma. Pagherà un taxi che lo condurrà in via 20 Settembre al Civico 20, dove incontrerà il ministro Stefano Patuanelli, 47 anni, di Trieste, laureato in ingegneria edile, targato Movimento 5 Stelle. E Tony Scilla annuncia, andrò da Patuanelli a sostenere una posizione politica netta, ma non nel senso del confronto sterile fra posizioni politiche, ma piuttosto contestando il cambio in corsa di criteri di valutazione che non erano stati concordati. Per esempio, all'ultimo momento, e senza concordare con noi, è stato assegnato un punteggio maggiore al parametro della siccità estiva, che ha provocato l'emergenza in vaste zone irrigue del centro-nord. La beffe è che in molte arrie la Sicilia soffre non di siccità estiva, ma di siccità strutturale e cronica. Pensate alla piana di Gibesi, nella provincia di Gela. Lì è pronto un progetto da oltre 31 milioni di euro, che farebbe rifiorire letteralmente l'agricoltura in una zona che, come molte altre, soffre di processi di desertificazione. Altro che siccità estiva, solo stagionale. E poi, sul piano prettamente politico, l'assessore Mazzarese aggiunge Andrò a Roma a dire al ministro Patuanelli che la Sicilia è stata attaccata, esclusa, umiliata e che non può essere la freddezza di un algoritmo a deciderne i destini. Lo scippo alla Sicilia è un fatto che possiamo argomentare, non è la prima volta che vi assistiamo. E poi Tony Schilla ritiene che sarebbe stata, e che sia ancora possibile, una integrazione o una correzione, anziché una radicale bocciatura, e spiega. Un progetto definitivo, ma non ancora esecutivo, ha la possibilità del soccorso istruttorio, con l'integrazione dei documenti, con un paio di progetti è andata proprio così. E se ancora manca qualcosa, perché bocciare invece di inserire nella lista intermedia dei progetti rivedibili che pure era prevista? Poi, se non fossero stati esecutivi, i consorsi di bonifica non avrebbero neppure potuto caricarli, con successo in piattaforma. Esistono anche le commissioni per la valutazione dei progetti. A Patuanelli ricorderemo anche questo. Parliamo di fondi di vitale importanza e non possiamo in alcun modo permettere che vadano persi. La rete irrigua siciliana è in condizioni che non esito a definire disastrose. Confido non soltanto nella felice conclusione di questa vicenda, ma pure sulla nuova legge in approvazione all'Assemblea regionale per la riforma dei consorsi di bonifica. Saranno gestiti direttamente dai proprietari dei fondi dopo che la regione se ne sarà assunta criticità e debiti. ...di continuare in questo percorso socio-economico.